Erika Santoro hai fatto una partita di grande corsa, sei partita sulla fascia destra, poi sei stata spostata a centro campo, quindi anche di quantità. Purtroppo di fronte c'era una squadra forse la più forte in questo momento in Italia e è arrivata una sconfitta nonostante foste passate in vantaggio. Ti chiedo una considerazione sull'andamento della partita e anche se sei rimasta impressionata da questa Fiorentina. Allora, nonostante che nella carta loro siano più forti, noi abbiamo dato il massimo, non avevamo nulla da perdere. La partita nel primo tempo siamo riusciti a fare subito gol e stavamo tenendo un buon passo. Poi siamo calate nel secondo tempo, dovevamo avere un atteggiamento un po' più aggressivo, ci siamo fatte prendere un po' dall'agitazione. Loro sono forti fisicamente, sono ben organizzati e quindi hanno fatto male. In queste ultime due partite il calendario non vi opponeva delle squadre facili. Avevamo Verona, Fiorentina quest'oggi. Quindi insomma, sono due sconfitte che però ci potevano stare se vogliamo. Come dicevi tu, non avevate niente da perdere. Quindi a livello morale bisogna anche considerare questa cosa qui, immagino. Sì, non ho nulla da perdere, però non abbiamo preso tre punti che sono sempre fondamentali. Ce la giochiamo con ogni squadra, sia la prima in classifica che l'ultima e cerchiamo sempre di fare meglio.